Salve a tutti ragazze e ragazze, io sono Angela e voi siete sul mio canale Tutto dal web. Ieri 29 aprile si è registrata una nuova puntata di Amici, quello che noi andremo a vedere domani 1 maggio. Scopriamo insieme se vi va le anticipazioni, chi sarà eliminato e tutto quello che accadrà per quanto riguarda le sfide. Gli ospiti della puntata che sono stati Loredana Bertè e Giordana Angi, insieme hanno cantato un nuovo singolo in duetto, componente comica nuovamente partecipante Nino Frassica. Si è già con un tema caldo, i guanti di sfida, nelle tre buste sorteggiati sono Peparini Pettinelli che sfidano Arisa Cuccarini, guanto di sfida Tranchere di Contro Haka, su Alleluia cantata a cappella, Guanto di sfida rifiutato, vince poi Tancredi. Nuovamente guanto di sfida, Samuele verso Alessandro, coreografia sull'interpretazione, esibizioni diverse, il punto va a Samuele. Guanto sulla versatilità, Giulia verso Alessandro, il punto lo prende Giulia. Ballottaggio così, il primo è Alessandro e Tancredi. Vince la squadra di Pettinelli e Peparini, che chiamano immediatamente Zerbi e Celentano. Loro cominciano a sfidare Deddy verso Haka, Deddy canta la fine di Tizianoferro e vince Deddy. Nuovamente Deddy verso Haka, vince Deddy. Poi Sangio verso Giulia, punto a Sangio. Vince così la squadra Zerbi e Celentano. Al ballottaggio vanno Giulia, Haka e Samuele, tre ultimi rimasti. Giulia è salvata immediatamente, poi si salva Haka e eliminato provvisore Samuele. Terza manche. Nuovamente Zerbi con Pettinelli e Peparini. Sangio verso Haka, Guanto di sfida, vince San Giovanni. Deddy contro Giulia, Deddy canta destri e Giulia balla Gerusalemme, punto a Giulia. Serena verso Haka, punto ad Haka. Perde la squadra Zerbi e Celentano. Immediatamente è salvato Sangio e poi è salvato Deddy. In eliminazione provvisoria vanno Samuele e Alessandro. L'eliminato si saprà in casetta, ma noi riusciamo già a svelarvelo. L'eliminato della settima puntata di Amici è Samuele. Voi che cosa ne pensate? Giulia vince il premio team nuovamente. Scrivetemelo nei commenti il vostro parere, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina per non perdervi questo ma nessun altro prossimo video. Buona giornata ragazzi da Angela, da Tutto dal Web.